Ciao a tutti, bentrovati. Io come sempre sono agitata, riflettevo prima che è un po' strano quest'anno perché sono al freelance camp da sola, cioè non ho pargoli sparsi tra il pubblico e non sono neanche incinta, perché di solito ho l'una o l'altra quando vengo qua e non mi aspetto nemmeno. Bene, fatti convenevoli. Sì, vi parlo di LinkedIn perché è un tema che mi sta a cuore, è uno strumento che io per lavoro, poi capite perché, utilizzo quotidianamente e sono anni che mi domando ma perché i freelance non si innamorano di LinkedIn? Oggi io non pretendo veramente di farvi innamorare come non pretendo di esaurire tutto quello che è LinkedIn o come potete usarlo, però insomma, vabbè, una panoramica, anche perché se proprio proprio non ci fa innamorare possiamo sempre puntare. Io sto... perché sono troppo veloce? Ho un matrimonio? Mi hanno detto di aspettare. Ok, se non è l'amore della vostra vita potrebbe essere comunque un buon partito. Ragioniamo in maniera puramente strategica e funzionale, oggi lo vediamo così. Quindi che cosa faccio io oggi? Vi dico perché secondo me ha senso esserci e poi sei piccoli consigli per esserci al meglio, considerato... insomma, datemi la fiducia perché scarta bello profili di LinkedIn dalla mattina alla sera e quindi un pochino ci ho preso la mano. Ok? Allora, sì, vi do ragione. Non è che proprio proprio ci fa sfrugugnare le budella LinkedIn, no? Perché? Perché sostanzialmente su LinkedIn c'è un pubblico particolare e ci sono alcuni sentimenti che emergono più di altri. In particolare la frustrazione. La gente è incattivita su LinkedIn, ok? È incattivita perché è sempre colpa degli altri se non trova lavoro, se non viene considerato, se non viene ascoltato, se non viene pigliato, se non cambia lavoro e quella è una categoria. Poi c'è la qualunque cosa, manager, anche se sei appena diplomato è un manager su LinkedIn, anche questa è una categoria strana di gente su LinkedIn. Poi ci sono quelli che io amo tantissimo, gli ingegneri, i relazionalmente impreparati ingegneri, mi scuso con la categoria se ce n'è qua in mezzo, ma sono quelli a cui tu scrivi e non arriva la risposta, oppure ti rispondono e poi non ti rispondono più e tu sei lì e dici ma mi pareva di aver capito che, no, ok? Poi ci sono i passivi e aggressivi e vabbè in generale c'è una categoria di persone che non ti mette proprio a tuo agio, cioè su Facebook ci vai, ci stai, trovi gli amici, i like, i cuoricini, ok? Su LinkedIn c'è della cattiveria, ma lo sto dicendo seriamente, cioè su LinkedIn le persone si sentono libere di esprimere la frustrazione di qui sopra a chiunque senza filtri, però siete fortunati, siete fortunati perché c'è su LinkedIn una categoria professionale che si attira almeno il 97% della cattiveria dei partecipanti di LinkedIn, quindi se non fate parte di quella categoria siete più o meno salvi. La categoria sono io, ok? Quindi mi occupo di ricerca e selezione del personale, ok? È anche colpa mia della mia categoria che LinkedIn è diventato così, ma vi assicuro, e adesso vi porto due esempi, che ce le pigliamo tutte noi, tutte, questi magari ve le leggo perché non riuscite, però per dire, no, questi sono due banalissimi commenti tra i tantissimi che potevo scegliere. Allora, questo mi dice, eh già, solo i recruiter lavorano con l'umano, la cosa migliore sarebbe l'estinzione di questa figura completamente inutile e a volte persino controproducente, data ogni volta dall'ignoranza sia in materia di CCNL che di competenze tecniche cinciuncian. Ok, l'altro mi dice, sì, tanto alla fine nemmeno li guardate i CV in questo caso, e prendete solo quelli che vi dicono di prendere dalle vostre aziende clienti, altrimenti non mangiate nemmeno voi, virgola virgola virgola. Agenzie interinali uguale illusione, del resto il capitalismo è questo, soltanto illusione. Io rispondo, guarda, non sono un interinale, così la risposta, lo spero per lei, non si corre il rischio di imbattersi in recruiter che con lauree in filosofia fanno le manager HR per profili che nemmeno sanno dove stanno di casa, virgola virgola. E si fidi, la maggior parte, aspetta, la maggior parte di quelle che lavorano nel suo campo sono tutte così, e gurà, gurà da caso, sono tutte donne, virgola virgola, che caso, ecco queste sono le cose che io ricevo regolarmente ogni giorno, sia che io scriva, che bello c'è il sole oggi, sia che io scriva, guardate, secondo me il curriculum va fatto in maniera diversa. Non c'è distinzione, comunque da una parte o dall'altra la spada ti arriva sempre. Allora, è facile da capire perché io lo capisco e non mi agito, io continuo col mio tono, sempre anche un po' provocatorio su LinkedIn, perché oggi LinkedIn, e parlo in questo caso soprattutto per i dipendenti, è nient'altro che il posto dove tu speri, cioè dove quelle persone sperano di trovare o cambiare lavoro, che non è LinkedIn, però oggi è questo anche purtroppo a causa nostra, nostra intendo recruiters, intendo i char, c'è tutta la funzione i char delle aziende, perché è diventato un database di profili professionali, e quindi un po' ci sta, che poi insomma il buon tono andrebbe insegnato a tutti, è un'altra cosa, per oggi è così. Ma questo è per i dipendenti, no? E poi vi ho detto fino adesso che è un bruttissimo posto, e voi mi dite, cazzo Roberta, cosa ci stai dicendo di fare su LinkedIn, che ti insultano? Allora, vediamo il freelance. Se chi è dipendente usa LinkedIn per cambiare lavoro, a cosa serve al freelance? Di sicuro non a trovare nuovi clienti, o quantomeno non in maniera diretta, cioè invecchiate così, se state a aspettare che LinkedIn vi porti nuovi clienti, e ce lo conferma l'articolo di Cosmopolitan che ha rilanciato anche Alessandra, scritto da Gaia Giordani questa settimana, in cui ha citato le maggiori piattaforme dove i freelance possono incontrare opportunità di lavoro, LinkedIn non c'è. E quindi, Zan Tedeschi vai al punto, a cosa ci serve? Allora io non voglio banalizzare con un semplice personal branding, però vi porto a riflettere sull'opportunità di utilizzare LinkedIn per aumentare, per costruire la vostra credibilità professionale, cioè quanto ne sapete, e soprattutto che posizioni prendete rispetto al vostro ambito di lavoro. Soprattutto per le persone che non hanno un sito o non hanno un blog, beh, un sito magari in molti ce l'avete, però non tutti magari hanno un blog, e soprattutto per chi comunque ha come interlocutore, come cliente, o lo vuole avere l'azienda, e quindi si può interfacciare con dei manager, Facebook non basta. E LinkedIn potrebbe diventare il posto dove chi vuole collaborare con voi va a trovare delle referenze, ma non perché va a interrogare gli altri, ma perché guarda come vi ponete rispetto al vostro lavoro e ai temi del vostro lavoro, come interagite, che tono di voce usate, che stile avete, quanto vi esponete, quanto non vi esponete. Quindi magari il cliente non vi trova su LinkedIn, però va a vedere. E se trova un profilo vuoto, o se comunque lavorate nel mondo della comunicazione e lì non ci siete, una domanda magari se la fa, e si pone il problema. Ok, quindi secondo me LinkedIn oggi rappresenta comunque una piazza, chiamiamola una piazza, una piazza dove circola parte, gran parte del mondo del lavoro. Ha senso non esserci? O peggio, ha senso esserci muti e un po' invisibili? Secondo me no, però per esserci bene alcune attenzioni vanno fatte, quindi adesso vi dico quelle che secondo me sono le prime da guardare. Qui adesso magari spacco il pubblico in due, oppure mi andate tutti contro, però secondo me su LinkedIn eliminiamo la parola freelance, perché concettualmente l'immagine associata alla parola freelance porta in sé alcuni valori che non sono più nostri. Esempio, basso costo, esempio, destrutturato, esempio, giovane, ma giovane inteso come junior. Esempio, lavora da casa, esempio, non ha magari risorse, strumenti, network. E nessuno di voi vuole che si percepisca questo. E quindi non è una scelta linguistica la mia dite libero professionista per parlare in italiano. È perché alla terminologia libero professionista l'immagine mentale che arriva a chi legge è diversa. Secondo me su LinkedIn scrivete libero professionista. La foto, la foto, la foto. A cosa serve la foto? A far vedere la vostra faccia, punto. La vostra faccia a rendervi riconoscibili, a dare un volto al profilo. Non mi dite, ma perché mi è stato detto? No, io metto che faccio sci alpinismo perché allora chi vede capisce che sono uno dinamico. Certo, perché chi gioca a scacchi è un pirla, no? Eh, giusto? Perfetto. Allora, esempi. I nomi sono citati solo perché sono profili pubblici, quindi non sto ledendo la privacy di nessuno. Questa... Boh, guardi, Boh, cosa avrà voluto dire? Boh, è perché Jacopo è un nome maschile che capisco che è lui. Ma perché in due nella foto profilo? E soprattutto perché in due al matrimonio? Boh, la foto amiccante. Vabbè che fa massaggi, ma ce ne sono, guardate, ce ne sono di tutti i tipi, comunque, anche nelle... Cioè, dai, 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 dai. sull'idea. Cioè, dopo, peraltro, non sto dicendo che non va bene quella foto lì in altri contesti, ma LinkedIn è un social network di carattere professionale. Adeguatevi. Sti selfie in macchina. Ma ne vogliamo parlare. Con gli occhiali. Dai, dai. E poi aggiornate la foto. Nella foto avete i capelli corti, adesso avete i capelli lunghi, avevate la barba, non avete più la barba. Ecco, cambiatela. Tipo, no? Ok. E sulla foto? Mi chiudo qua. Summary. Summary è quella... quello spazio che non tutti compilano, ma che io consiglio di compilare dopo un po' i dati e la job title e quello che LinkedIn ti pesca automaticamente dalla formazione e prima delle posizioni professionali. Allora, secondo me, anche se non serve a trovare clienti, però lì si usarlo un po' per agganciare, per far capire perché tu, invece che un altro, non ha senso, secondo me, mettere in quello spazio lì quello che fai. Perché lo scrivi dopo, nelle esperienze professionali, lì devi dire come lo fai e cercare l'aggancio. Ok? Dopo, più o meno lungo, decidete voi, perché poi, una volta, su LinkedIn, cioè, si vedeva tutto, si apriva subito, adesso si apre, si vedono solo tre righe, quindi qualcuno ha pensato, beh, allora adesso scrivo solo tre righe, in modo che... Quelle lì poi sono scelte che potete fare, però, a mio avviso, li dovete agganciare. ecco, la frase con cui ha chiuso prima il relatore, prima di me, io la uso anche per il curriculum, il curriculum non è perfetto quando non c'è più niente da mettere, ma è perfetto quando non c'è più niente da togliere, e quindi io predico, chi mi conosce lo sa, il curriculum di una, massimo due pagine. Su LinkedIn c'è un po' più spazio, questo parlo a livello di profilo, cioè non avete, non si stampa in pagine poi, quindi lì potete aggiungere qualcosa in più, non siate timidi, e questo vale per il profilo, non siate timidi nei contatti, cioè togliamoci dalla testa di avere nei contatti di LinkedIn solo persone che conosciamo, giusto? Poi valutiamo, però allarghiamo la rete, perché anche a questo serve LinkedIn, non siamo timidi nei contenuti, diciamo, parliamo, esponiamoci, scegliendo con cura cosa dire, però usiamolo su social network, popoliamolo, come? Scegliendo un tono di voce, ecumenico, ma neanche se vi sforzate, cioè non troverete mai una cosa che va bene a tutti, perché c'è sempre il passivo aggressivo pronto a scagliare la prima, la seconda e anche la terza pietra. Quindi mettetevela via, fate come me, che quando leggo quelle cose di prima dico, ah, ciccia, nel senso così, perché se ti agiti per ogni cosa che ti vendetta contro, poi pensate sempre che ci sono i recruiters che se la prendono per il 97% tutta loro e quindi andate un po' più sereni, però scegliete un tono di voce, decidete come volete parlare del vostro lavoro e sfruttate quel canale lì per farvi sentire in un certo modo. Se cercate di andare bene a tutti, su LinkedIn non ci riuscirete mai e rischiate soprattutto di anacquare il vostro messaggio e quello che avete da dire. Quindi caratterizzatevi in qualche modo. Io sono antipatica, cioè io sono provocatoria, lo so, faccio le cose con un po' di spocchiosità, però cercando di non ledere nessuno, perché dopo aver ascoltato Chiara Gandolfi poco tempo fa ho capito che magari qualcosa devo aggiustare, comunque ho scelto un tono di voce e mi prendo, insomma, oneri e onore di questa scelta. Ah, ecco, adesso arriva il posto di questo. Sapete cosa è il messaggio di contatto? Che può arrivare, cioè quando voi chiedete il contatto su LinkedIn di una persona potete o mandargli direttamente il contatto, così, oppure arricchirlo di un messaggio di richiesta. La stessa cosa, quando accettate il contatto di una persona, quella persona potrebbe o aver messo un automatismo per cui vi arriva il benvenuto nel mio network, tu ti guardi intorno e dici buah, buah, vabbè, oppure potrebbe decidere di scrivervi qualcosa più o meno in automatico. A me le cose che arrivano sono tipo sai, sei molto carina, sbagliato, cioè, fa molto bene il mio ego, ma sbagliato. Uno mi ha scritto ve lo giuro, miau, io non ho risposto, perché poi quelle lì sono le cose nelle chat private, non le ho esposte, perché non rispondo e dopo un po' mi fa no perché sei Vicentina, giusto? Quindi miau i gatti e ma va a cagare, cioè, ma te pare, miau, anche perché avrà avuto tipo 60 anni, vabbè. Ieri un avvocato, ciao, giovanissima, beh, cioè, ok, adesso invece vi leggo l'approccio che ha avuto un freelance con me, ok, e si chiama Umberto e io non so come leggerlo perché l'altro metteva virgola 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 aveva rubato quelle di Umberto e Umberto non mette niente, quindi le metto io più che altro per prendere il respiro. Allora, buonasera Roberta, come sta? Posso avere gentilmente il suo numero per parlarle di un progetto che sto sviluppando? mi dica pure se interessata o meno. Buonasera, intanto è piacere di conoscerla, questa sono io. Può anticiparmi qualcosa? Umberto, sì, certamente, si tratta di un business di natura digitale improntato nel settore della caffetteria. Se non le interessa mi dica tranquillamente così nessuno dei due perde tempo. Le auguro una buona giornata, Umberto. Roberta, non mi ha dato molte informazioni rispetto a quello che sta cercando da me in particolare ma neanche in merito al progetto in generale. In questo momento ho poco tempo anche per fissare appuntamenti telefonici quindi mi scuso io per la mia mancanza di disponibilità ma senza un'anticipazione più precisa devo declinare. In ogni caso le lascio la mia mail qualora volesse inviarmi qualcosa e gli scrivo la mail. Umberto, io da lei non sto cercando proprio nulla io le sto dando la possibilità di potersi creare la propria rete commerciale con chi vuole e dove vuole in tutto il mondo. Se le interessa ben venga. Ci troviamo e le spiego nel dettaglio come funziona altrimenti non importa nessun problema. Le avevo semplicemente scritto perché visto il lavoro che sta attualmente facendo ha sviluppato certi doti all'interno di questo contesto sono molto utili. P.S. Quello che le sto proponendo non è un cambio di occupazione ma lo vede inizialmente come piano B. Giuro ce l'ho l'ho fatto copia in colla e me lo sono stampata perché non mi sembrava carino pubblicarlo però un altro errore è chiedo il contatto ricevo la richiesta di contatto rispondo ok e la prima domanda è ciao che cosa fai tu? Come cosa fai? Cioè se mi hai chiesto il contatto ma sarai andato nel mio profilo a vedere chi sono no? Ah e sei anche tu di Roma? No vivo Vicenza cioè così un po' di consapevolezza quando fate le cose e questo era il punto il punto 6 il più uno è questo ed è il tecnicismo che adesso non vi sto a delencare però secondo me LinkedIn è un'ottima fonte di contenuti se pulite la timeline perché non siete costretti a leggere tutto quello che scrivono le persone con cui siete in contatto e viceversa potete seguire i contenuti di persone con cui non siete in contatto per dire basta solo lavorare di impostazioni e avere una timeline che ogni giorno vi dà dei bei contenuti perché vi assicuro che tolti micetti gattine e sguardi amicanti ci sono dei bei contenuti a livello professionale così come potete scartare tutta una serie di notifiche perché LinkedIn ti fa fare i compleanni oppure ti fa dire fai le congratulazioni a quello che ha appena cambiato lavoro che sono noiosissimi anche lì si lavora di impostazioni e si ha un LinkedIn bello pulito che non rompe le scatole ogni 5 minuti e che può essere veramente oltre che un posto dove voi andare ad esporvi ma anche un posto dove andare a cercare collaborazioni piuttosto che contenuti piuttosto che informazioni eccetera 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 poi nell'utilizzare LinkedIn ricordatevi sempre siate gentili siate buoni perché ci sono i recruiters e un po' di gentilezza non guasta mai neanche su LinkedIn sarebbe una bella cosa una cosa anche un po' nuova grazie grazie Roberta grazie a tutti grazie a tutti